Diciamo che oggi è l'inizio di un percorso in prospettiva di costruire un gruppo di simpatizzanti, amici e anche rappresentanti storici del partito per iniziare a costruire una squadra che possa pensare alle prospettive future di questo paese e che ce n'è tanto bisogno. I problemi sono tanti, voi già le sapete, oggi è solo un giorno di festa, di inaugurazione della sede per iniziare un percorso. Devo dire che sicuramente riusciremo a dare un contributo non indifferente a questo paese. La rappresentanza che oggi è qua a Partinico dei deputati europei, nazionali e regionali, questo mi dà coraggio di andare avanti. C'è una bella partecipazione di simpatizzanti e amici del partito e sono convinto che riusciremo a mettere la base per dare una prospettiva un pochettino diversa, incominciare a fare rispettare non solo il dovere ai cittadini ma avere anche quei diritti, da parte anche dei nostri giovani avere diritto al lavoro. Parecchi giovani stanno andando fuori di Partinico perché ci sono difficoltà e questo è disattenzionato da parte della politica fino ad oggi. Noi vogliamo fare un pochettino all'inverso, rispettare e difendere i diritti dei cittadini e dei nostri cittadini perché è chiaro a tutti che nell'ultimo periodo la politica ha attenzionato solo gli estracomunitari con grande rispetto per carità perché io sono stato 27 anni all'estero però oggi si guarda solo una direzione dove c'è un ritorno economico e i nostri cittadini soffrono, stanno male e qualcuno ha dimenticato la Costituzione italiana che l'articolo 1 recita ben preciso che l'articolo 1 dice prima i diritti e poi i doveri, questo qualcuno l'ha perso di vista. Noi stiamo attenzionando veramente a fare rispettare i diritti dei nostri cittadini. Gli obiettivi, ripeto, quello di costruire una squadra per andare al governo di questa città. È chiaro che da soli non possiamo andare da nessuna parte, noi siamo aperti a 360 gradi da dialogare un pochettino con tutte e a mettere assieme, non una cozzaglia di persone come qualcuno in questi giorni ha detto qua, partiamo in un'intervista che è rilasciata in un'altra TV ma mettere assieme delle persone moderate che abbiano veramente a cuore il rispetto e l'interesse del proprio paese di garantire i diritti, come ho detto poco fa, dei nostri cittadini. Questa oggi è l'inaugurazione della prima sede di Forza Italia e partiamo da Partinico voluta da Vito D'Amico, da Sottoscritto che abbiamo puntato a scegliere Partinico come punto di partenza per rinascere il partito in tutta la provincia. Questo è, anche se parecchi hanno cercato di boicottare questa inaugurazione di oggi pur tuttavia siamo riusciti a riempire di contenuti tanta gente che ha un significato all'interno delle istituzioni e all'interno dello stesso partito. Da l'amorevole Pogliese, europeo parlamentare, via via a diversi deputati regionali e un paio di deputati nazionali. Questo significa che il partito è tutto coeso intorno alla rinascita di Forza Italia. Dai dati che noi abbiamo visto alle comunali passate e nel resto d'Italia vediamo che il partito è in crescita, anche se a Palermo non abbiamo avuto quel risultato sperato perché il partito bisogna aprirlo. Più si apre, più arrivano i consegni. Se noi siamo condizionati dalla scelta delle persone e cerchiamo di metterci solo i nostri amici questo non accadrà. Quindi dobbiamo cercare di rilanciarlo il più possibile diventando un paese liberale che è la gente che ha voglia, che ha il riconoscere i valori di Forza Italia all'interno di questo partito per portare a casa quei risultati che è nel momento di splendore che abbiamo avuto negli anni passati. Certo, importantissima, anche se è la dimostrazione che il partito si sta costruendo e bene in tutta la Sicilia, alle ultime amministrative abbiamo avuto risultati importanti siamo tornati a essere il partito centrale del centro-destra, tant'è che in questo momento stiamo lavorando moltissimo per provare ad allargare questa alleanza per le regionali. Io ho tantissimi incontri quotidianamente, spero che questa cosa si possa fare e se ci riusciamo abbiamo serie possibilità di vincere i regionali. Non è andato che Berlusconi è stato, come dire, si può dire sminchiato da sentenze, non sentenze, buttato fuori dal Senato. Provate a non avere un momento di depressione dopo tutto quello che gli è successo. La verità è che lui è un leone per cui ritorna e ritorna sempre più forte, ma non c'è dubbio che l'abbiamo pagata le conseguenze di queste aggressioni continue che ci sono state. Lui oggi sta benissimo, io lo sento spessissimo ed è veramente in grandissima forma, sta lavorando anche lui per ottenere un risultato alle prossime nazionali che sia importante, per cui oggi siamo ritornati vivi. Dopo tanti anni ci avevano quasi ammazzato, ma alla fine siamo sempre in piedi e muoiono gli altri, non noi, perché la gente ha fiducia in noi, perché noi siamo persone che lavoriamo tutto il giorno e per cui anche se tentano quotidianamente di farci fuori poi non ci riescono. Forza Italia è tutta compatta, fermo restando che essendo un grande partito, già succede nei piccoli, figuriamoci nei grandi, c'è qualcuno che ogni volta rompe le scatole, ma non è un problema, questo fa parte della normalità, della politica, però il fatto che sia tutta compatta te lo dimostra che siamo oggi praticamente tutti qua, con tutti i deputati regionali, con tutti i dirigenti del partito e quando dico tutti, se anche quasi tutti, vuol dire tutti. Forza Italia riparte da parte dico, riparte da un radicamento territoriale che ha sempre rappresentato l'elemento discriminante rispetto ad altre realtà, non soltanto del centro-sinistra ma anche del centro-destra. Per noi è fondamentale il radicamento territoriale, è fondamentale la presenza nel territorio, oltre ovviamente all'impatto mediatico del nostro leader nazionale. Ecco perché noi oggi siamo tutti qua, gran parte della classe di dirigenti Forza Italia è a fianco di Vito D'Amico all'interno di un percorso di rilancio di Forza Italia i cui risultati nelle ultime lezioni amministrative testimoniano. Forza Italia, a differenza del Partito Democratico, ha presentato liste in quasi tutti i comuni con il sistema proporzionale. A Palermo il PD si è nascosto dietro ipocrite sigle mimetizzanti, Forza Italia ha ottenuto un ottimo risultato elettorale con la propria lista, lo ha fatto in tutti gli altri centri della nostra Sicilia, ecco perché noi siamo assolutamente convinti che Forza Italia possa vincere le elezioni regionali del 5 novembre del 2017 all'interno di una coalizione di centrodestra unita, l'unità per noi è un presupposto fondamentale, allargata magari a chi aveva inizialmente creduto alla disastrosa esperienza di Crocette che si è successivamente ravveduto. Comunque è fondamentale che il centrodestra unito possa vincere le elezioni regionali e possa governare la Sicilia al contrario di quello che ha fatto Crocette e di quello che ha fatto il Partito Democratico. Certamente innanzitutto il rilancio dell'economia, del sistema delle imprese che è stato massacrato da questa esperienza di Rosario Crocette, bisogna razionalizzare la spesa, bisogna ridurre gli sprechi, bisogna ridurre le società partecipate, tutto ciò rappresentava uno degli elementi caratterizzanti anche di chi ha governato la Sicilia in questi ultimi 5 anni, a distanza di 5 anni il bilancio consuntivo è assolutamente disastroso, la Corte dei Conti ha certificato il fallimento di questa esperienza governativa, ecco perché noi vogliamo voltare pagina, abbiamo le carte di regola per farlo e sono convinto che i siciliani sapranno scegliere con più oculatezza quello che è stato fatto in questi 5 anni, chi è stato orgogliosamente e coerentemente all'opposizione svolgendo una funzione anche propositiva laddove era necessario svolgerla e chi invece è stato corresponsabile del disastro di Rosario Crocette. Il Partito Democratico e il centro-sinistra sono stati i veri responsabili di questa esperienza governativa disastrosa, tutti gli indicatori economici lo confermano, lo conferma il Sole 24 Ore che annualmente pubblica una statistica sul gradimento dei governatori in Italia, Crocetta, come era naturale che accadesse, ha conquistato la maglia nera, ultimo governatore in Italia come indice di gradimento e ultimo governatore nella storia da quando il Sole 24 Ore pubblica questa gradutore, credo che questo sia l'indicatore più oggettivo che rappresenta il fallimento di quella esperienza governativa, dobbiamo voltare pagina e Forza Italia ha le carte di regola per guidare la coalizione di centro-destra. Nicola Caldarone è coordinatore provinciale di Forza Italia, inaugurazione della sede a Partenico però noi dobbiamo dire chiaramente che a Partenico, diceva qualcuno qualche anno fa, Forza Italia è unita e compatta, nel senso che è completamente sgretolata. Partiamo dalla inaugurazione che è stata un vero successo perché con il caldo torrido di sabato scorso, oltre 40 gradi all'ombra, Partenico ha risposto con diverse centinaia di persone a una manifestazione del genere, io non la ricordavo da tanto tempo, non solo qui ma anche in altre grandi città della provincia. Il fatto che ci sia fibrillazione in un partito che ritorna ad essere protagonista, che con forza vuole tornare ad essere protagonista sul territorio, onestamente mi fa ben sperare. Perché quando abbiamo aperto il circolo di Forza Italia a Partenico, onestamente scarseggiavano tutti questi volenterosi militanti che oggi scalpitano per entrare. Ma sai qual è il problema? Che la porta è sempre stata aperta ed è aperta. Partendo dal presupposto che il nostro coordinatore comunale, che ha posto la prima pietra per la riedificazione di questo tempio, di questa piccola sezione, sostanzialmente ha fatto un ottimo lavoro, ha la solidarietà e la vicinanza di tutto il partito, che ieri ha voluto dimostrarlo facendo venire a Partenico autorità politica come l'unico euro parlamentare che abbiamo in Sicilia, due parlamentari nazionali alla Camera dei Deputati, il senatore Francesco Scomano, l'onorevole Miciche, e il padrone di casa d'adozione che ha investito tantissimo nella sede di Partenico, che è Riccardo Savona, perché non è un edificio pubblico e qualcuno ha messo mani in tasca per aprire questa sezione. Quindi diciamo si riparte e si cerca di nuovo di aggregare. Noi abbiamo costituito, intanto ricordo che Vito D'Amito non è stato nominato ma è eletto da un regolare congresso, si è costituito un gruppo consigliare che è in attesa di adessioni, nel caso in cui volesse aderire adesso, perché sa, nel tempo poi magari non vorrei che fosse troppo tardi. Diciamo che Vito D'Amico a questo punto diventa l'aggregatore di Partenico, voi volete una leadership, avete un candidato sindaco? Guardi, Vito D'Amico è una persona che è appartenito al... Si candida a sindaco. Non si candida a sindaco, ma assieme a tutte le forze che si rivedono nel centro-destra e che sono distanti anni luce dal centro-sinistra rappresentato da Crocetta e compagni, sono certo che Vito D'Amico avrà un grande ruolo nell'individuazione del candidato che spero possa essere di Forza Italia o quantomeno essere di una... L'importante è che sia una persona molto rispettata e una persona per bene. Sono certo che D'Amico, come posso dire, qua odiovato dai vertici regionali, quello sì, e provinciali del partito, darà il contributo determinante alla scelta di nuovo sindaco. Rumors. Guardi, io sono felice, ieri sabato è stata una manifestazione straordinaria, è stata eccellente. Sono felice, sono grato a Vito e sono grato ai cittadini di Partinico che ancora una volta hanno risposto ai colori della bandiera di Forza Italia. Grazie.